Inno alla donna, donna bellissima, madrigale della madre terra, lucente luna dai morbidi fianchi. Tu donna, fiore di gioviale corolla, tu che aspetti pistilli più dolci per farti femmina al cospetto del mondo. O donna che forte ti fai di natura furente come onde di un mare impetuoso di tramontana. Dimmi tu quale animo fresco si nasconde dietro le tue mura, altissimo baluardo di emozioni inconfessabili. Donna meravigliose di lacrime odorose, donna di scivolati sorrisi divini, quale immenso vestito indossi nelle notti d'inverno durante una difficile vita, o quali ballate in trecci con piedini di fata durante un amore scosceso di inafferrabili felicità eteree. Donne, tu sei il perno su cui gira l'universo, dolce guanciale dove appoggiare il viso in desiderio di ristoro, rosa canina dai lunghi steli. Ora sedimi accanto e lascia che le tue parole accordino note, violino nel vento, santa senza claustri, foce di fiumi senza fine, cuore di anime belle e appassionate di meravigliosa vita. E questa è Manuela Prosperi, la nostra ospite di oggi, che ci parlerà del felminio, della donna, perché oggi è il compleanno, la donna, la grande madre. Grazie a te, io saluto tutti coloro che sono in ascolto qui su rtradioterapia.it, alla regia come vedete c'è sempre impacabile, il nostro Giulio Verghella. Buonasera, ciao. E oggi abbiamo come ospite appunto Manuela Prosperi e dopo ci sarà un'altra pittrice, perché anche tu sei comunque un'artista, un'altra pittrice come Mirta Maranca che ha sempre elogiato, festeggiato, celebrato il femminio con i suoi colori. Bene, allora, oggi quindi si festeggia la grande donna, giusto? La grande madre, sì, oggi è la grande madre, la dea delle dee, praticamente la dea ancestrale, non c'è una dea prima di lei, in quanto l'uomo primitivo aveva un'idea tutta sua, l'abbiamo scoperto nel tempo, perché l'uomo primitivo era convinto che la donna incinta non avesse nulla a che fare con lui. Ah, sì, era una cosa che nasceva... Era una cosa tutta a sé, sì, lui era convinto, diceva, ma lei fa tutto da sola, allora ci deve essere qualcosa di mistico dietro a tutto questo e noi abbiamo delle prove dicendo questa sera... Insomma ci sono voluti tipo 3-4 mila anni per capire... Sì, per capire questa alchimia, diciamo. Infatti abbiamo delle prove in quanto c'erano delle tavolette paleolitiche, cioè qua parliamo di 30 mila anni fa, 25 mila anni fa, delle tavolette paleolitiche in cui i primi tempi gli archeologi dicono, ma queste tavolette cosa vogliono significare, queste donne così floride, così belle, cosa significano? In realtà poi si è capito che significava proprio questo, era l'immagine della grande idea della grande madre, una di queste, su tutte la più bella che abbiamo, è la Venere di Lussel, praticamente è un basso rilievo, dicevamo di 25 mila anni fa, trovato in un letto di fiume in Dorgogna, in Francia, praticamente è quella immagine che tu hai messo a fianco al mio viso... Alla Locandina, nella Locandina, quello, cioè chi non l'ha visto ora lo descriviamo, praticamente ora è custodito a Bordeaux, sempre in Francia, ed è stato trovato proprio a Lussel, in questo posto, in questo paese, in questa città della Francia, e raffigura a questo basso rilievo una donna incinta, bella florida, che ha una mano, la sinistra sul ventre, la tiene sul ventre, e nella destra ha un corno, in realtà divene detta la Venere del corno, in realtà questo corno non è un corno, è una mezzaluna con 13 insenature, perché sono le 13 mezzelune, e mezzelune, sì, le 13 lune, le 13 lune e le 13 lune terrestri, no? Quindi queste 13 lune terrestri sono anche le 13 lune del ciclo della donna. Perché diciamo questo che è molto importante? Per due motivi, il primo motivo è questo, che questa fertilità della donna così terrena, così pratica, è stata ripresa poi in seguito dagli egizi con Iside, tant'è che abbiamo il canto di Iside, non so se poi lo possiamo leggere, l'inno di Iside, rinvenuto a Nagammadi. Eh sì, dopo, dopo, a Nagammadi sono stati i rotoli, insomma, quelli famosi. I rotoli Nagammadi, questo è un inno rinvenuto, cioè risalente del secondo, terzo, quarto secolo, avanti Cristo, ed è anche l'inno wicca, tra l'altro, neopagano, questo è un inno della Grande Madre, ripreso poi dal neopaganesimo wicca. Che è un, diciamo, questo neopaganesimo è una realtà che in Europa si pede parecchio, riprende il druidismo, il celticismo, diciamo... La natura, il potere della natura. Sì, leoneo stregoneria bianca, una cosa un po' così. E poi ci sta la seconda cosa importante, che poi è stata ripresa anche questa fertilità, questa cosa delle dee, è stata ripresa anche dai greci, con Demetra, che è la dea della maternità, con i romani, con Proserpina, quindi è andato avanti in questo modo. Ma perché le tredicilune? Proprio perché poi i Celti e anche i wicca, per l'appunto dopo, i druidi, hanno instaurato un calendario di tredici lune, che sono gli Esba. Ecco, gli Esba, che di cui mi parlavi. Gli Esba, perché si chiamano così? Questo è un nome molto recente, perché gli Esba, in realtà, sono stati chiamati così, le lune Esba, nel tardo ottocento, da una parola francese, di tardo ottocento, risalente a un romanzo, lo stiamo a specificare, questa parola, questo termine era ebat, che significa festino, nel senso più almeno, il festino, quello rosco, il festino rosco, quello un po', quindi questa Esba, diciamo, delle lune, era molto rosco, no? Ed erano, sono tredici, perché, insomma, festeggia il Paganesimo. Il più bello, ti faccio uno scoop, è quello di adesso, quello di luglio, che è fra due giorni, ed è l'Esba, ovvero detto la luna, dell'erbe. 25, no, 24. Fra due giorni. 24 luglio. 24 luna piena, Esba dell'erbe, ricordatevelo. E che ci consigli di fare? Allora, in realtà è l'Esba dell'erbe officinali, quindi si preparano l'erbe per i decotti, si preparano l'erbe per i liquori, queste cose di questo genere, no? Scusate, mi scivono le cuffie. Per l'amore, quindi, per l'amore. Sì, diciamo, ma io però posso dire una cosa personale, sarei che sono un'artista, per me è l'Esba di Van Gogh. Dici? Sì, perché a me piacciono i girasoli, questa cosa... Questi colori. Quindi l'altare, il mio altare buddista si colora tutto di giallo, questi... Come è la frase che... Niamo ora in ghekio, niamo ora in ghekio. È questa cosa buddista, che si colora, questo non c'entra niente, però è la cosa, c'entra sempre la mia ora in ghekio. A dire di questo, quest'altare, queste cose, insomma, questa luna è bella perché è una luna piena, molto gialla. No, te lo facevo ripetere, perché mia cugina da Roma ci segue e lei è buddista. Sì, la mia ora in ghekio, c'entra sempre, la legge dell'universo c'entra sempre. Al di là di questo, dicevamo, visto che ci troviamo, parliamo anche del resto del calendario, il mistero e il paganesimo. Però questa è quella più bella. Questa è la più bella, secondo me è la più bella perché è la luna piena d'estate, la più bella di tutte, però viene detta anche la luna del raccolto e quindi va a braccetto col sabato del raccolto, che è il primo agosto, è diciamolo, visto che ci troviamo. Quindi anche per chi cerca lavoro, per chi vuole... Insomma, è una cosa bella, perché la fertilità è anche in questo. Anche perché anche il sabato del raccolto, quello del primo agosto, viene anche detto Lug Nassad, non è una parolaccia. Lug Nassad significa in gaelico matrimonio di Lug, quindi praticamente questo sole che si sposa, insomma, col raccolto è una cosa bella, quindi è una cosa molto di fertilità. Perché anche questo sole alla fine si sposa con tutta l'ambiente del raccolto, della fertilità del momento, è il massimo splendore, no? Ed è uno dei quattro sabba principali dell'anno. I sabba sono otto, uno dei quattro principali è questo. Gli altri quattro sono minori, rimangono. Quindi vi sto un po' intrecciando, ma questa è la verità. Allora, tornando a noi sulle donne, diciamo questo, tornando alla Venere, voglio dire questa cosa importante. La Venere di Losser era all'inizio pigmentata di ocra, era tutta rossa. Quindi non era solo pietra come si vede adesso. No, vabbè, poi i pigmenti scompaiono un po' come nelle statue romane, che noi le vediamo trasparente. Sì, sì, però era una colorante. Quindi questo... 25.000 anni fa... Già nel miracolo che stanno qui così. Quest'ocra rossa, secondo te cosa poteva significare su una donna incinta? disegnata. Non lo so, la fertilità. La fertilità, il ciclo della donna. Immagina questi uomini palopaleolitici, come erano avanti, anche in questa... E infatti noi parliamo sempre, sì, di una... Pensiamo a questi che vanno a caccia, ci immaginiamo sta situazione. Sì, un po' di buu... Invece no, la delicacenza di... Immagina questa donna bellissima, perché l'immagine, ora non la possiamo mostrare che stiamo in radio, ma era bellissima, con questi capelli... Però abbiamo messo in locandina, quindi chi ci segue... Si vede questo corno, questa luna, questa donna così bella, rossa, c'è un'immagine di fertilità fortissima. Ma quanto pesa, diciamo, sulla bilancia in questi momenti di fertilità, però quanto pesa la volontà, il desiderio, il saper quello che noi vogliamo realmente, perché a volte l'universo deve sapere quello che vogliamo realmente, altrimenti non troviamo la strada, non possiamo dire voglio essere felice, bisogna anche capire ciò che ci fa un po' felici, insomma. Ma in realtà questa è una domanda molto particolare, perché questo dipende tutto, ritornando alla fertilità, una fertilità interiore. Quindi dobbiamo sapere noi. Sì, in realtà questa fertilità fisica di cui stiamo parlando si contrappone comunque a una fertilità interiore che noi abbiamo detto, che cresciamo, come dico io sempre, come un fiore interiore, questo fiore, tra virgolette, questa buddità, diciamo, io la intendo, la buddità, questa illuminazione, questo risveglio interiore, una fertilità interiore che si contrappone, che poi parlando proprio, detta come va detta, nella cristianità questa buddità è Maria. Ecco, infatti tu ci volevi parlare proprio della figura di Maria, dei cristiani. Io non sono cristiana proprio intesa come cristiana, io ci ho riflettuto su sta cosa. Cioè nell'Occidente noi abbiamo questa figura di Maria eccezionale, abbiamo questa figura che tra l'altro va a sconvolgere tutti i piani della fertilità intesa come la grande madre di una volta, no? Perché Maria non è una dea, perché ovviamente i cristiani hanno un dio, sì, in altro senso, non voglio entrare in merito. Ma attenzione, Maria ha una fertilità empirica di una straordinaria importanza. Cosa intendi con fertilità empirica? Impirica non è una cosa fisica. Maria fisicamente porta in sé la verginità, il grembo materno in una certa maniera. Quindi non si parla di una fertilità come la venere di Rossel, che è una cosa fisica, il rosso, capito, fisico. Lei porta una fertilità empirica, cioè un quest'amore. Una crescita interiore. Una crescita, quella di cui stavi parlando adesso tu, la buddita le porta questa crescita interiore eccezionale, una cosa straordinaria che, parliamoci chiaro, nella cristianità la porta solo lei. Però questa cosa è stata scoperta nel tempo, perché Maria per i primi cristiani era una figura a zero. Attenzione, questa è una cosa importante. Cioè Maria, fino a 350 anni dopo Cristo, non era assolutamente nominata da nessuna parte. Esisteva solo Iuyos, Soterra, insomma questo Gesù Salvatore, che era la figura cardine del cristianesimo. Il figlio, diciamo. Il figlio. Ma lei era una figura che stava dietro? No, 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 proprio non veniva nominata da nessuna parte. In realtà ha fatto questo gesto di, insomma... E' stato proprio il cattolicesimo, quindi, proprio esaltarla. E' stato il cattolicesimo nei concili a esaltare questa cosa. Cioè, ora, non voglio entrare in merito, però, insomma, voglio dire, è stato proprio nel tempo a portare avanti questa figura eccezionale e a esaltarla in una maniera bellissima. Poi con l'illuminismo nel tempo, proprio attraverso i concili, attraverso anche i papi, l'importanza di Maria è diventata una cosa proprio seria. E la figura di Iside? Come si inserisce in questo mondo simbolico? La figura di Iside siamo ancora ai primi tempi. Nel senso, la figura di Iside, allora, all'epoca... E dopo la Venere, diciamo. Sì, perché no, la Venere di Losser è molto precedente. Poi c'è Iside. Poi c'è Iside, in realtà, noi dobbiamo considerare che gli antichi all'epoca erano molto più moderni. Di noi? Ah, sì. Più liberi, forse. Sì, erano più aperti. Ma vediamo anche la cultura romana, loro erano molto più aperti di noi. I romani, eh sì. Anche questi matrimoni, noi stiamo a fare tutte queste storie con questi matrimoni. Loro erano molto più aperti, molto più sciolti. Forse non giudicavano... No, no, avevano, ma diciamo, avevano un atteggiamento diverso. Ecco. Semplicemente questo, non voglio stare a dire questo. Più di vita, più di vita. Sì, sì, erano molto più aperti. Libertini, forse. Anche sì, forse troppo delle volte, a mio parere. Io forse sono un po' chiusa su alcune cose. Al di là di tutto, vabbè, ho un retaggio culturale, vabbè. Al di là di questo, Iside si pone in un momento dell'Egitto in cui la donna è appunto, insomma, un puto aperto, perché se non mi sbaglio, Iside si pone al punto in cui c'era anche una faraona donna. C'è stato un periodo in cui l'Egitto ha avuto anche una faraona donna. Ekshushup, come chiamavano Ekshushup? Ora esattamente, non mi ricordo che io... Ekshushup è difficile. Sì, esattamente. Ora questi nomi così curiosi, ora mi sfugge. Quella vestita da uomo. Sì, quella vestita da uomo, cioè si fingeva uomo, ma lo sapevano tutti che era donna. Era donna. Lo sapevano tutti. È un po' famosa Cucinelle. Questo segreto di Pulcinelle lo sapevano tutti. Al di là di questo, comunque Iside era una dea particolarmente venerata e si sa questo fatto perché dalle cose, dalle tavolette ritrovate in lingua copta, poi insomma anche dopo così, sappiamo bene che Iside era una donna particolarmente di polso. e questa cosa piaceva molto, insomma veniva presa come punto di riferimento. Però gli faccio una domanda. Ovviamente tu sei una grande studiosa di spiritualità, io lo posso dire perché ti conosco e so che non dici cose, cioè sono tutte cose studiate ma non solo, è quasi un agnosi, cioè tu l'hai provate sulla tua vita, l'hai vissute, l'hai sperimentate sul tuo spirito, quindi non le dici a casaccio, però la mia domanda adesso è questa, proprio avendo parlato anche di questo faraone donna che si fingeva uomo, cioè quindi quello che viene, è la donna forte, no? Ancora oggi ci sono molti uomini che amano questa figura di donna, così, no? C'è questa cosa, no? La nostalgia della mammona di una volta, quella mammona che fa... La stona dicono! La stona dicono in romagna, la stona! Cioè tutte queste cose, queste donnone, capito? Poi li cambiavano pure voce a queste donne, a una certa... Le donne che parlavano così, capito? Ma per dire, quindi quello che c'è tanto non è tra uomo e donna, non è questo, perché spesso quando la donna si fa un po' uoma, viene accettata nel mondo del lavoro, sì, perché viene accettata nel mondo del lavoro, no? Sì, la donna che diventa un po' austera, viene... Androgena! Ecco, così viene più accettata, quindi è proprio la femminilità che dà fastidio, forse, negli anni, nei secoli, è quello che viene combattuto, cioè la femminilità in alcuni luoghi, come il lavoro, come il potere, come il comando, cioè in alcuni luoghi dà fastidio non la donna, ma la fertilità della sua femminilità, quindi nasconderla un pochino la rende più forte, più austera e più accettabile per la società. D'accordo. Cioè, dico, per la società, non per l'uomo, ma in generale. Tu che pensi? Sono d'accordo con te su questo, pienamente d'accordo con te, perché ci sono forse ancora dei retaggi su questa cosa, non così antichi di come stiamo parlando di Isidio. Io penso che siano più retaggi più moderni, inizio del Novecento, Ottocento, stiamo parlando di cose molto più vicine a noi, perché, ripeto, purtroppo io credo che il mondo è ciclico e anche il tempo è ciclico, e quindi queste cose si ripetono. E quindi cosa succede? Che anche a livello culturale noi andiamo incontro a una situazione che si diventa più liberi, poi più chiusi, poi di nuovo più liberi, poi di nuovo più chiusi. Come reazione? Sì, io, allora, questo... Come calamite? A livello antropologico. Ecco. Cioè, magari io non ho tutta questa idea, non l'ho studiato bene, però ho avuto modo magari nel mio occhio clinico di vedere che antropologicamente abbiamo quest'idea di ripeterci, un po' come le mode, un po' come le mode calzoncici di corte, ritornano queste reticenze. Quindi io ho quest'idea che magari anche in questo senso la femminilità, ora la vogliamo in un modo o non in un altro, ma io penso, però c'è una cosa, io penso che anche la mascolinità è la stessa cosa. Che ci sono momenti in cui... Quanto della femminilità, ora io ho scritto... Gliela passiamo agli uomini, sta femminilità. Ma io, ma è brava. No, nel senso che nelle famiglie, oggi sto notando, tu cucini giù, lo vedi? Cioè, è bello questo, che comunque l'uomo può... Perché l'uomo desidera cucinare, l'uomo ha forse più della donna a volte... Si liberate, mi fa lavoro. Si liberate, mi fa lavoro. Sì, è una cosa che, come si dice, per esempio, io non amo e non odio cucinare, ma però se cucina qualcun altro, a me fa piacere, insomma. E questo è uno scambio bello oggi, che vedo che molti uomini... Non c'è più l'uomo che fa... Voglio mangiare, voglio mangiare, è pronto a mangiare. E cioè, è difficile, oggi ce n'è di meno. Sì, comunque, dal di là di tutto, vedo che queste mode, anche mentali, queste cose vanno e vengono. Perché io poi ho anche visto... Ma a me piace intregarmi su queste cose antiche, su di greci, queste cose... Vedo che ci sono delle abitudini, anche cattive abitudini, che vanno e vengono, no? Ma Enrico, non so se anche loro facevano questa cosa. Ma anche loro facevano questa cosa che faccio io adesso, per dire, duemila anni fa. E quindi hai quest'idea che dici, ma allora queste cattive, buone abitudini degli uomini tornano. E certo, duemila anni fanno... Perché la natura umana, cioè cambia tutto, ma la natura umana non cambia mai. E così è anche la natura umana della Dea Madre. Ci sono tante cose... Ora, prima ti ho detto a te che bella donna, per dire. Perché io tuttora vedo, oggi, che la festa della Dea Madre, per me, vedo la bellezza della donna come magari la vedevano tanti anni fa, che era proprio sentita come festa. Cioè, questa è la festa della Dea Madre, l'ha sentita tantissimo. Oggi magari c'è chi non la sente, chi non lo dice, chi la sente lo stesso, non si dice. Cioè, però sono cose che tornano, vanno e vengono. Cioè, un po' come tutte le cose. Però, ritornando al fatto di prima, magari tu dici la donna la vogliono così, ma guarda che anche l'uomo, una delle volte, le donne lo vogliono in una certa maniera. Quindi, ora, noi poggiamo molto il discorso la donna così, la donna così, perché purtroppo ci sono tanti paesi in cui la donna non è ancora... Magari hanno una storia anche diversa. Ha una storia diversa, una cultura diversa. Ma se no, ce l'hanno anche gli uomini. Tempi diversi. Ho sentito ora una storia di cronaca su un uomo, insomma, ucciso. Capito? Sì, sì, ci sono tante storie. Sì, sì, ma per Wicca... Dimmi, cara, neopagano, neopaganesimo. Per il neopaganesimo si punta a essere più solidali, a essere più, diciamo, vivere rapporti tra persone, per esempio, dello stesso sesso, essere più amichevoli invece di, cioè, mirare proprio a stare insieme, vivere, convivere senza farsi del male. Allora, il neopaganesimo Wicca è un movimento religioso assolutamente, estremamente pacifista. e si può avvicinare sicuramente ai movimenti politeisti o atei, come ad esempio l'induismo, il buddismo, sono molto simili a livello di concezioni, concetti, sono naturali, cioè quindi sono cose molto vicine alla natura e comunque viene erroneamente confusa come la stregoneria bianca. In realtà non è una vera e propria stregoneria perché la stregoneria è qualcosa che ha a che fare più con i druidi, con i celti. La Wicca sì, ha qualcosa a che fare con i celti, però in realtà è un movimento tutto a sé. Neopagano, neopagano perché è nato adesso, non è giovane, riprende qualcosa ma è più una cosa di erbe, alchimia, ritualità antiche, pre-cristiane, diciamo così, ed è molto vicino alle culture indiane, culture classiche, pre-cristiane. Comunque tu ci torni a trovare a settembre, giusto? Ma certamente, perché tu sei a Quadri. Io sono a Quadri, provincia di Chetia. Però sei di Montesilvano? Io sono di Montesilvano ma vivo a Quadri, in tranquillità vicino ad un fiume, il fiume Sangro, che mi scorre. Mezzo alla natura quindi? Sì, assolutamente. Ecco, quindi con i tuoi animali, con il gatto, con i gattini, il cagnolino. Sotto casa mia c'è un bellissimo posto che si chiama La Cartiera, è un'antica cartiera dove c'è un fiume che scorre, il fiume Sangro, per l'appunto c'è un parco giochi dove io vado ogni tanto a scrivere e a rilassarmi. Eh sì, perché tu sei una scrittrice, una poetessa, lo sappiamo. Ci sono delle pubblicazioni in vista? Ma no, non credo per adesso, mi sono stoppata perché sto dipingendo in questo momento. Ah, in questo momento stai dipendendo, ho visto che hai anche uno stile bellissimo, molto interessante. Oh grazie, ho appena dipinto Animamundi. Ah, Animamundi. Animamundi, sì. Ah, bello, bello, veramente. Platoniano, Platoniano Animamundi. Ah ah ah, insomma, va bene. Poi mandami la foto, insomma, pubblichiamo come sempre, tu hai avuto tante iniziative come quella dei Sassi per il tuo paese, bellissimo. Eh, adesso c'è qualcosa in vista ma non ti dico niente perché la soppresa. Però hai detto che tu in futuro tornerei e ci farei delle rivelazioni. Io ti aspetto, io e Giulio siamo qua e aspettiamo che ci piacciono. Adoro piancherare con te e anche ascoltare con te. Grazie, grazie. Grazie a voi, grazie mille. Io ti mando un bacione fortissimo. Un bacione anche a voi tantissimo. E a settembre, questa è l'ultima puntata per questa stagione, quindi per questa stagione quindi riapro. E a settembre ci risentiamo per parlare di queste cose inedite e leggere anche magari qualche cosa delle tue poesie che sono sempre stupende. Tra l'altro io facevo il recital, ti ricordi? Lo so, con Petali di Rosa. Con Petali di Rosa io ho fatto un recita, capito? Giulio faceva un recital accompagnato dalla musica jazz con le sue poesie di un libro. Una cosa bellissima. Grazie. Ascolta, allora la luna, dopo domani c'è la luna delle erbe. Allora dopo domani, ma una cosa non ce la puoi consigliare? Che ne so, un po' dello smarino, un po' d'acqua, un sale. Però se volete, magari raccogliete insomma delle erbe particolari, officinali, qualsiasi cosa della camomino, qualsiasi cosa, per fare degli infusi, insomma, vedete voi, qualcosa che vi piace, ci sono tante erbe belle. Ah, va bene, esprimiamo un desiderio. Esprimiamo un desiderio. Un bacione e andiamo in musica. Ciao Manuela. Manuela Prosperi. Ciao, ciao.